Un enorme cavallo azzurro ha sfilato per le vie del centro storico della città, catalizzando l'attenzione dei passanti. Adulti, bambini, napoletani e turisti, tutti a chiedersi cosa fosse e cosa rappresentasse quella grossa scultura in vetroresina che al suo seguito portava oltre 100 tra operatori e utenti del terzo settore. Molti di loro, visto il colore che in città fa inevitabilmente pensare alla maglia degli 11 di Mazzarri, hanno pensato ad una simpatica iniziativa per scaldare i tifosi in vista delle prossime partite del Napoli. In realtà l'imponente scultura realizzata nel 1973 dallo psichiatra Franco Basaglia insieme ai degenti e agli studenti dell'ospedale psichiatrico di Trieste è Marco Cavallo, simbolo della rivoluzione basagliana, che portò alla chiusura dei manicomi grazie alla legge 180. Da allora il cavallo azzurro gira il mondo come simbolo dei diritti dei sofferenti psichici e di tutte le persone in condizioni di disagio. A Napoli è arrivato in occasione del Festival del Cinema e dei Diritti Umani e per la giornata, nonostante voi, storie di persone diversamente normali.